In un certo senso lo aveva anticipato proprio Francesco Lucacci, segretario provinciale di Fratelli d'Italia, nell'ultima puntata di Caffè Bollente prima della sosta natalizia. A Subbiano il candidato nel centro-destra sarà il padre Ezio, noto medico in pensione, 84 anni, già assessore provinciale e assessore nel comune di Agneri della prima giunta Polcri. Storico personaggio della destra retina, Lucacci sarà capo di una lista che presenterà i simboli dei partiti della coalizione, ovvero Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. La lista che sosterrà la sua corsa è ormai via di definizione, ma la conferma ufficiale è arrivata proprio nel primo pomeriggio a Subbiano e tempo di chiarezza, dice la nota del centro-destra subbianese. Ed è giunta l'ora della fine dei trasformismi che hanno caratterizzato la vita politica di questo comune negli ultimi anni, coloro che si dichiareranno di centro-destra ma appoggeranno altre liste e candidati diversi da Ezio Lucacci saranno solo dei millaltatori. Intanto si profila un duello particolare, visto che ha annunciato la sua ricandidatura anche Ilario Maggini, non più giovanissimo come lo stesso Lucacci. Il sindaco uscente Ilaria Mattesini dovrebbe essere della partita e guiderà la lista civica appoggiata anche dal centro-sinistra. Ma non sono escluse altre candidature come quella di Mirella Ricci, già assessore in provincia. Del resto Subbiano è famoso per avere più candidati sindaco di altri rispetto anche alla popolazione residente. Cinque anni fa furono cinque i candidati, adesso il numero pare destinato a salire.